Sbloccati i pagamenti delle borse di studio universitarie, finalmente gli studenti e le studentesse di Sassari, dopo un mese di attesa a partire dalla prossima settimana, potranno ricevere il pagamento della prima rata. L'Erso di Sassari ha infatti avviato le procedure e dato il via al pagamento dei benefici economici per circa 1.100 studenti e studentesse. Abbiamo raggiunto un risultato importante. A giorni siamo in condizioni di erogare la prima rata della borsa relativa all'anno 2023. Gli uffici hanno fatto un lavoro importante, in questo senso va loro un grande riconoscimento. Per il futuro, per il 2024-2025, siamo confortati dal fatto che il Ministero ha stanziato ulteriori 500 milioni di euro che consentiranno di elevare la platea dei beneficiari e aumentare l'entità delle borse a vantaggio dei nostri studenti, nell'ottica di un sempre maggiore riconoscimento del diritto allo studio universitario. Si è quindi risolta una situazione di disagio per decine di migliaia di studenti in tutta Italia, causata da un ritardo nell'erogazione delle risorse necessarie a questo fine da parte del Governo centrale. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha trasferito i fondi PNRR e programmi operativi nazionali agli enti regionali per il diritto allo studio universitario, destinati all'erogazione del 100% delle borse di studio agli aventi diritto. Lo Stato ha trasferito agli Ersusardi complessivamente 13 milioni e 370 mila euro per il PNRR e 3 milioni e 80 mila euro di risorse PON che sono state suddivise tra Sassari e Cagliari sulla base delle indicazioni fornite dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione.